Alleluia, lode e gloria al Signore sempre, eternamente, anche in questa giornata c'è questo timido sole che sta arrivando e ci sta avvolgendo in questi colori d'autunno, in queste sfumature che non so se esiste un pittore che è capace di farne uguali, tu sei il Signore e hai davvero curato ogni piccolo dettaglio e anche oggi la riflessione sul Vangelo di Luca 14 esci per le strade e oltre le siepi e spingili ad entrare, spingili ad entrare, cioè non è solo un invito, c'è un tempo per invitare ma c'è un tempo anche di urgenza dove vanno spinti ad entrare, spinti ad entrare nel regno, spinti ad entrare nella realtà del regno, un banchetto di nozze, una festa, una mensa preparata una danza, una gioia, una condivisione, un'esultanza per ciò che è buono, per ciò che è bello, per ciò che è nostro spingili ad entrare oggi troviamo chiedere allo Spirito Santo il coraggio che ci spinga a farli entrare perché a volte ci fermiamo troppo nel rispetto umano e crediamo che davvero fare quel passo indietro lasci all'altro la possibilità e questo è buono, in tanti tempi è cosa buona ma in altri tempi c'è l'urgenza di spingerli ad entrare quando vedi le persone che sono lì sul baratro, che stanno cadendo queste persone che ormai stanno guardando in altre direzioni, si stanno perdendo non puoi più solo invitarli come faresti con chiunque, vedi uno che si sta buttando da un ponte e tu vai e cerchi di fermarlo e noi dobbiamo cercare di spingerli nel regno spingerli ad entrare nella mentalità del regno, nella realtà del regno in un regno che è suo, vero e di cui lui è il re dei re ma un regno del quale noi siamo eredi perché se siamo figli, dice la parola, siamo anche eredi e questo regno comincia a essere nostro ed è nostro questo pezzo di terra dove tu stai abitando ed è tuo tutto e cambia la tua mentalità cambia tutto ciò che tu fai in funzione di come ti muovi perché come noi casa nostra la teniamo bene la teniamo pulita, in ordine i nostri fratelli cerchiamo le persone che fanno parte della nostra famiglia di dargli il meglio questo essere nostro allargato di questo regno si allargerà anche come pensiero, come attitudine, come modus operandi cioè noi arriveremo a muoverci con la mentalità del regno spingendo così ad entrare tutti perché questo fremore che abbiamo vissuto noi, questa gioia, questa grazia del quale noi siamo tenutari e siamo anche donatori non può più essere contenuta a noi deve per forza essere condivisa e oggi ti invito davvero, chiedi allo Spirito Santo il coraggio di spingere ad entrare quanti puoi oggi perché tutti, tutti, tutti ne facciano parte perché tutti possono gioire, perché tutti possono averne pace perché tutti sono nostri fratelli perché tutti sono parte di noi perché noi siamo il suo corpo il suo corpo, tutti, nessuno escluso e grazie Dio ti lo diamo e ti benediciamo e grazie nostro Signore Gesù perché sei venuto sulla terra proprio per farci comprendere il dettaglio di questa verità Signore noi ti lo diamo, ti benediciamo e ti ringraziamo lode e gloria a te Signore Benedetto tu sei